Questa mattina avevo voglia di fare qualcosa di alternativo quindi appena sveglio ho deciso di andare a fare la spesa in Francia Anche perché da quando sono tornata dall'ultima vacanza mi manca tantissimo A metà strada quando eravamo più o meno alla Twilce è venuta fame quindi ci siamo fermati nella cioccolateria che ha partecipato a Cake Star Per me cioccolata classica mentre mio marito ha preso quella bianca con panna Subito dopo la nostra seconda colazione siamo ripartiti e dopo circa un'altra oretta di viaggio siamo arrivati finalmente in Francia Prima di andare a fare la spesa però ci siamo fermati anche in una boulangerie perché volevo prendere i pano cioccolato, le madeleine e le baguette Finalmente siamo poi arrivati al supermercato e ero alla ricerca di novità ad assaggiare con voi in uno dei prossimi video Ho trovato davvero tantissime cose al di sopra di ogni aspettativa infatti all'inizio avevamo preso solo un cesto ma poi abbiamo dovuto switchare in un carrello Ho comprato tantissime cose soprattutto nel reparto merendine, cereali, caramelle e nel reparto frigo perché erano tutti prodotti che in Italia non trovo Anche negli altri reparti c'erano tante cose molto invitanti però ho cercato di darmi un contegno perché avevamo già il carrello molto pieno Alla fine siamo tornati a casa con tre sacchettoni stracolmi, fatemi sapere